Ciao a tutti, allora questa edizione dei campionati nazionali il Cus Milano si è presentato con oltre 160 atleti supportati da uno staff di veri professionisti direi per impegno, per la dedizione, per l'amore che hanno dedicato a questi ragazzi non soltanto durante le gare ma anche nel contesto della giornata e vi spiegheremo perché. Allora dietro di me Ludovica la nostra dottoressa quest'anno abbiamo avuto una percentuale altissima di infortuni e il suo intervento curativo è stato determinante vedete questa faccia d'angelo però ha dovuto essere molto presente addirittura una ragazza in ospedale è andata si è rotta il naso insomma un ragazzo si è pratturato la gamba anche il tibio tarsale dico bene diversi acciacchi la parte della manutenzione è stata affidata a quello che noi chiamiamo il fisio da oltre dieci anni con noi è Renato che ha lavorato veramente da mattina a notte diciamo vero Renato i ragazzi sono tanti diciamo che meno frequentatore quelli dell'atletica che magari hanno le più fighette quelli della pallavolo del basket diciamolo è così al mio fianco come responsabile della logistica quindi coordinamento dell'albergo viaggi logistica eccetera 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 Giovanna che ha dovuto viso dolce ma dovuto fare il viso duro con le tante pretese esigenze di tutti noi insomma però ha coordinato perfettamente tutto ha detto diversi no qualche sì però ci voleva una figura decisa e poi avevamo bisogno di insomma interloquire di relazionare con i ragazzi quindi avevamo bisogno di una persona sempre verde che è roberto milani ecco vedete i capelli bianchi ma è il più giovane di tutti con lui si può parlare dal chiodo alla bomba atomica problemi di e così di avvicinamento di far parlare gli atleti di confidarsi con lui non ce ne sono tutti elementi preziosissimi e quest'anno è così mi hanno fatto il solito ottimo bottino però siamo andati avanti abbiamo fatto oltre quello che che prefissavamo cioè non solo il risultato tecnico ma anche la creazione di un ambiente bello sano sportivo entusiasta e dietro alla macchina da presa chi c'è simona fai vedere la testa sempre presente il gatto con la macchina fotografica in mano autrice anche di questi servizi perché bisogna rendere giustizia allo staff che bisogna farlo conoscere e capire che dietro gli atleti c'è un gruppo che ha lavorato senza limiti di orario a loro virtualmente un applauso mio e un applauso credo da parte di tutti gli atleti grazie